Il 23 aprile è stata la giornata mondiale del libro, istituita nel 1996 dall'UNESCO e festeggiata in più di 100 paesi con iniziative, eventi e progetti volti a promuovere la lettura. Anche in Sicilia, come nel resto d'Italia, si sono svolte numerose manifestazioni, ma i dati testimoniano come i lettori italiani siano davvero una rarità. I dati Istat parlano di una percentuale di lettori che si attesta attorno al 40%, dato che è costantemente in calo negli ultimi anni, il che significa che 6 italiani su 10, cioè circa 30 milioni di persone, non leggono nemmeno un libro all'anno. Questi numeri rendono l'Italia pecora nera del vecchio continente se si considera che la percentuale di lettori nella maggior parte dei paesi del centro e del nord Europa è superiore al 75%. Di questo si è parlato in un convegno organizzato dalla biblioteca comunale di Capodorlando insieme all'assessorato alle pari opportunità. È un fenomeno molto complesso e difficile da spiegare. Indubbiamente occorre un'inversione di tendenza, perché leggere poco significa anche avere delle comunità, delle società nel suo complesso, come dire, con delle caratteristiche negative, perché la lettura non solo rende l'individuo libero, più completo, che sappia sviluppare il senso critico della propria personalità, ma serve anche a rendere la società migliore, più matura. Oggi siamo di fronte a un mondo cosiddetto virtuale. I bambini oggi sono molto legati alla televisione, ai computer, a internet, ma se non si sviluppa anche la fantasia, la capacità di immaginare le cose, questo si sviluppa attraverso soprattutto la lettura, ci sono gli effetti molto negative. Si è discusso se l'uso dei social network e di internet sia entrato in concorrenza con i libri, soprattutto per i giovani. La lettura di contenuti sui media digitali è più breve, più veloce e anche più discontinua e meno impegnativa. La lettura di e-book invece non è decollata più di tanto. Sono solo 4 milioni coloro che hanno letto un e-book l'anno scorso, il 7% della popolazione, mentre la maggior parte degli italiani continua a preferire leggere libri in versione cartacea, toccando fisicamente le pagine. Se non facciamo entrare nella nostra vita, nella nostra routine, la piacevolezza della lettura, può diventare un rischio, addirittura passare dall'altra parte diventa negativo, per cui c'è gente che scappa quando vede libri, perché sono state sempre purghe, non le ha scelte, non le ha rifiutate appena aperte perché si imponeva il riassuntino, le conosciamo queste cose che succederebbe.